Ok, prima di iniziare a parlare di REST, che è il primo argomento che tratteremo oggi, volevo dirvi ancora due cose a proposito del lavoro di gruppo, perché ho ricevuto diverse mail negli ultimi sei giorni e quindi provo a dire alcune cose direttamente a voce che finiscono anche video registrate, così magari evito qualche altra risposta uguale alle mail. Come vi dicevo l'altra volta, il lavoro a gruppi per il progetto di fine corso è obbligatorio ed è da fare a gruppi di tre o quattro persone. Quindi la risposta alla domanda posso farlo in due, in uno, in cinque è sempre comunque no. Alcune mail mi dicevano, ah ma io sono uno studente che non frequenta sempre perché lavoro, perché questo, perché l'altro. La risposta a queste mail è stata quasi sempre, non è la prima volta che capita, ci sono sempre stati studenti che non frequentavano, perché lavoravano e sono sempre riusciti a sostenere l'esame lavorando in gruppo, anche nell'anno scorso, due anni fa, che l'esame era interamente un lavoro di gruppo, quindi valeva 30 punti, più di 30 punti per arrivare alla Lode. Quindi quest'anno che è anche un po' più scalato ed è anche già assegnato dovrebbe risultare più facile addirittura. Detto questo, dopodiché il corso videoregistrato, i laboratori da consegnare saranno fattibili anche fuori da qui, nel caso in cui uno non finisca qui o non possa venire perché è malato quel giorno, come vi dicevo l'altra volta. Dopodiché invece per quanto riguarda il progetto, ecco, se avete, questa è la prima cosa che vi dico sui gruppi, se siete in un gruppo in cui ci sono potenzialmente una persona, su un gruppo da tre o quattro persone, che non può frequentare, non vi vedete spesso, questa parte qui, diciamo, la web-based user interface e il collegamento col gateway per i gruppi da tre e quest'altra parte qui sopra per i gruppi da quattro, sono due parti che possono essere singolarmente fatte da persone anche che non a stretto contatto col gruppo. Perché una volta definite l'API a livello del gateway, l'API REST a livello del gateway, quindi sapete esattamente quali sono le chiamate HTTP da fare, sapete esattamente quali sono le risposte da ottenere, ma lo sapete perché l'avete scritto su un pezzo di carta, il lavoro che sta da interfacciare questa parte con il mondo qui sotto o il lavoro che sta per interfacciare questa parte MQTT con di nuovo la parte verso il campo, gateway, database, interfacciamento con BART e interfacciamento con dispositivi reali, è un lavoro completamente staccato dal lavoro relativo alla parte di gateway. Quindi una volta definite queste API, questi lavori possono procedere parallelamente senza eccessiva anche sincronia. Ovviamente a un certo punto bisognerà far mettere tutto insieme, ma queste due parti sopra, questa per il gruppo da 3 e quest'altro giro per il gruppo da 4, sono sicuramente due parti che possono essere svolte anche senza eccessiva collaborazione all'interno del gruppo. Le parti qui sotto sono un po' più critiche, invece è più difficile dividere nettamente il lavoro e dire ci vediamo fra un mese. Ci vogliono più contatti frequenti. E questo è la prima cosa, il primo suggerimento. Quindi se siete in un gruppo dove c'è una persona che non può frequentare spesso, sicuramente le due parti, diciamo, verso l'utente e verso le interfacce grafiche sono le due parti più facili da gestire per una persona che non lavora, che non è qui presente, che lavora per esempio e sono un lavoro anche adatto come peso per una persona. Per esempio come vi dicevo in un gruppo da 3. Questo è la prima cosa. La seconda cosa che vi volevo dire è che ieri ho aggiunto un po' di link su dir. Alcune cose, alcuni link serviranno oggi, altri link li abbiamo visti la volta scorsa, per esempio questo IEEE, Internet of Things, Towards the Definition of the IoT, è una definizione dell'Internet of Things. Altre cose ci saranno utili nel proseguo del corso. C'è anche un link alla playlist delle video lezioni dell'anno scorso, nel caso qualcuno voglia per qualche motivo guardarle. Sempre collegati ai gruppi, qui sotto nel materiale aggiuntivo aggiungerò questo. Quanti lavori di gruppo avete fatto nella vostra vita? 3 o 4? Siamo d'accordo sul 3 o 4? Allora questi sono un set di slide con 10 suggerimenti per lavorare con successo in gruppo. Dopo che le avrete letti o mentre le leggerete, le troverete tutti abbastanza ovvi e probabilmente molti le avete già adottati. Questi non li ho inventati io, li ha inventati questo ex professore della Carnegie Mellon University negli Stati Uniti che si chiamava Randy Poche, si chiamava perché è morto e questo Randy Poche ha scritto questo libro, The Last Lecture e ha anche tenuto una last lecture nella sua università perché è abbastanza giovane, si è ammalato di tumore e con due o tre figli e una moglie e quindi ha lasciato questo libro in cui racconta anche un pochino la sua storia, alcune esperienze, alcuni consigli per i figli e in questo libro racconta anche che in alcuni corsi che faceva la Carnegie Mellon dove c'era un lavoro di gruppi adottava questi suggerimenti che sono linkati a questo sito. Io non li sto a leggere tutti, sono tutti in questo formato, un titolo e una descrizione. Vi dico i tre come dire che mi piacciono di più, diciamo così, o sono un pochino più particolari e quando lavorate in gruppo specialmente se non vi conoscete particolarmente bene cercate di mettere per iscritto in maniera chiara e univoca chi fa cosa, chi è responsabile di cosa, di chi è la colpa se qualcosa non funziona, se vogliamo metterla anche così, di chi è la responsabilità di un pezzo del progetto, in modo da evitare di dire ah ma io pensavo lo facesse lui e lui dice io pensavo lo facessi tu e nessuno ha fatto niente alla fine della fiera. E stessa cosa se dovete incontrarvi non fatelo, prima parlo col telefono con uno, poi mando un whatsapp all'altro e poi mando un terzo whatsapp a un'altra persona e alla fine non si sa bene a che ora ci dobbiamo incontrare. Mettetevi d'accordo in un gruppo whatsapp, con un thread di mail, ma che tutti siano sempre informati su quello che succede. Quindi tenete sempre aggiornato tutti. Se c'è un problema all'interno del gruppo, non fatelo emergere, e questo capita, è capitato anche qui, non fatelo emergere due giorni prima dell'esame, perché due giorni prima dell'esame è un ottimo momento per non risolvere un problema e per penalizzare l'intero gruppo. Se c'è un problema che emerge, cercate di risolverlo tra voi, chiedete a me, coinvolgetemi problemi, piuttosto, se c'è un problema, in modo che possiamo il prima possibile cercare di risolvere il problema, anche distruggendo il gruppo se necessario, se non è possibile agire altrimenti. Però non arriviamo a farlo un giorno prima dell'esame, quando poi è troppo tardi. È successo l'anno scorso una cosa del genere, per fare un esempio molto molto vicino. e la terza cosa che mi piace, che è un modo di raccontare, è un modo di porsi più che altro, è proponete alternative come domande e non come frasi. Invece di dire, secondo me dovremmo fare questo e non quello, cercate di dire, perché non facciamo questo invece di quello. È un piccolo cambiamento, ma per alcune persone è un cambiamento che può essere importante per come ci si pone. E per alcune persone permette di non dover difendere la propria idea, perché è la mia idea e non voglio che nessuno me la contrasti. Mettendola in maniera un pochino più dialettica si cerca di stemperare questi atteggiamenti. Non vale per tutti, ovviamente, ma alcune persone potrebbero essere particolarmente suscettibili a questo piccolo cambiamento. È anche un segno un po' più di rispetto nei confronti degli altri. Questi sono dieci suggerimenti, io come vi dicevo non ve li sto a leggere tutti. Alcuni sono secondo me ovvi, tipo lasciate il vostro ego alla porta, non portatelo dentro il gruppo, o fate parlare tutti. Questo mi sembra appropriato. Alcune cose sono magari semplici, altre sono un pochino più da rifletterci, non eccessivamente, non è scienza difficile, scienza dura, ma possono essere utili per svolgere meglio un lavoro di gruppo. Anche e soprattutto se nel gruppo ci sono persone che non possono frequentare sempre le attività in università. Questo ve lo carico nell'altro materiale dopo la lezione. Avete domande su questa parte di progetti, lavori di gruppo? Ok. Allora parliamo di REST. In questo set di slide c'è una panoramica su REST e una piccola introduzione al JSON. Voi l'altra volta mi avete detto che JSON l'avevate già usato e bene o male lo conoscevate, quindi l'ultima parte è nelle slide, ma poi la salteremo, sono le ultime 3-4 slide, giusto per riferimento. Allora qualcuno l'altra volta diceva di conoscere già REST e di averlo utilizzato. Qualcuno, la maggior parte no. Quindi partiamo dal principio. REST significa Representational State Transfer. È una sigla appunto di Representational State Transfer, REST. È uno stile architetturale per sistemi distribuiti. Non è una tecnologia, non è un'implementazione, non è delle porzioni di codice, è uno stile architetturale che quel signore lì, in quella foto, ha sviluppato come parte della sua tesi di dottorato in informatica, in information computer science. Essendo uno stile architetturale software per sistemi distribuiti, è ovviamente indipendente dalle piattaforme, indipendente dai protocolli, indipendente dai linguaggi di programmazione che vengono utilizzati. Ed è stato pensato in maniera da essere utilizzato facilmente con gli standard esistenti, per cui c'è un esempio, è dell'esempio che seguiremo noi, di utilizzo con HTTP, perché è uno standard, dopodiché non è vietato utilizzarlo con altri linguaggi di rete, con altri protocolli. E, per come è stato pensato, non ha problemi a essere utilizzato in presenza di firewall. Perché, appunto, è uno stile architetturale che si basa sugli standard esistenti e quindi usa tutto quello che gli standard esistenti possono offrire. In questo caso parliamo di HTTP. E quindi può usare tutto quello che HTTP può offrire. Il concetto principale di REST è la risorsa. Una risorsa è definita come qualunque cosa che ha un'identità. Quindi un documento può essere una risorsa, un'immagine può essere una risorsa, un servizio, il meteo, può essere una risorsa, un oggetto anche non collegato alla rete, una borsa, uno zaino, delle persone, possono essere una risorsa. È un concetto, di nuovo, non tecnologico e astratto. È un mapping concettuale a un'entità o a un set di entità, anche se quelle entità non corrispondono a niente di particolare in un certo punto nel tempo. La risorsa, adesso faremo anche qualche esempio più pratico, la risorsa è una sorgente di informazione specifica. E REST mappa le risorse con le URL. E secondo lo stile architetturale REST, i client e i server, dato che stiamo parlando di un'architettura, stiamo esemplificando in un'architettura HTTP, i client e server scambiano le rappresentazioni specifici di quella risorsa. Quindi noi potremmo avere una risorsa studenti in JSON, una rappresentazione studenti in XML, gli stessi studenti in HTML, gli stessi studenti in RDF, in varie rappresentazioni più o meno standard, che rappresentano la stessa risorsa gli studenti di questa classe, di questo laboratorio. E in REST, basato su HTTP, le operazioni sulla risorsa sono fatte attraverso i principali metodi HTTP. Quindi get, post, put, and delete. C'è un posto lì e un posto qua, quindi ci sono sedie e posti. Niente. Ok, quindi REST si basa sul concetto di risorse, vengono mappate sulle URL, le URL che già conoscete utilizzate, ogni risorsa può avere differenti modalità di rappresentazione e le risorse vengono utilizzate, vengono, le operazioni sulle risorse vengono fatte attraverso i verbi HTTP. E quantomeno i verbi HTTP principali, quindi get, post, put, and delete. E in REST ci sono due tipi di risorse. Le collezioni e i singoli elementi. Le collezioni rappresentano un insieme o una lista di oggetti, di item. E il loro formato in un'URL è slash il nome della collezione. Per esempio, noi potremmo avere un un server che espone dell'API REST ospitato su HTTP all'indirizzo api.uniubo.it slash students a quell'indirizzo è memorizzata la risorsa students la risorsa, la collezione di risorse studenti che cosa succede quando interagisco con quel sito dipende dal metodo HTTP che uso e dipende dal tipo di rappresentazione di quella risorsa potrei ricevere un JSON potrei dover inviare un JSON potrei ricevere un XML potrei non ricevere niente perché magari è un cancellare un qualcosa oppure un'altra collezione di risorse immaginando di avere sempre un server api.uniubo.it potrebbe essere Courses quindi Courses rappresenterebbero tutti i corsi di questa università in quell'esempio Students rappresenterebbe tutti gli studenti di questa università magari nella rappresentazione di Student ci sarà anche collegamento tra lo studente e i corsi che segue magari no dipende poi dal server come implementato non è un problema diciamo relativo a REST è un problema poi della specifica implementazione e queste sono le collezioni dopodiché ci sono i singoli elementi della risorsa che rappresentano appunto una singola risorsa una specifica risorsa e tutte le sue proprietà di nuovo quali proprietà quelle che sono funzionali allo scopo per cui quel server quell'API sono state pubblicate quindi per esempio hanno come formato slash risorsa la collezione della risorsa slash identifier quindi un identificativo univoco di quella risorsa tipicamente numerico ma non è obbligatorio nello stile architettuale REST basta che sia univoco e sia un identificativo quindi per esempio uno potrebbe avere sempre sul server api.uniupo.it la collezione students che sono di nuovo tutti gli studenti dell'università e poi io voglio le informazioni su uno specifico studente che ha come matricola 1, 2, 3, 4, 5, 6 S1, 2, 3, 4, 5, 6 quella è la matricola per esempio che l'università assegna a uno studente e la matricola è univoca per ogni studente oppure potremmo avere la stessa cosa di prima quindi api.uniupo.it slash courses quindi tutti i corsi forniti da Upo slash S1729 che potrebbe essere era era il codice di questo corso due anni fa è un corso è il codice corso univoco di nuovo quindi lì su courses potrei avere l'elenco di tutti i corsi erogati da questa università e accedendo invece a S1729 ottengo le informazioni specifiche su questo corso quindi il titolo chi è il docente per esempio quanti studenti ci sono magari anche quali studenti ci sono attraverso le loro matricole quante ore ci sono qual è il calendario eccetera come vi dicevo le proprietà dipendono poi dall'implementazione specifica del server rest per che cosa è stata creata quest'API e questi sono i due concetti il concetto principale dello stile architetturale tutto è una risorsa o come collezione o come risorsa singola e su HTTP è rappresentato in quel modo slash il nome della collezione e eventualmente slash l'ID dell'oggetto all'interno di quella collezione dove ripeto come oggetto anche le persone sono intese in questo senso come oggetto le best practice per la risorsa sono che le risorse sono nomi non verbi studenti corsi non studiare le risorse le collezioni di risorse tipicamente sono plurali proprio per dare il dia che sono tante e necessitano nomi concreti non nomi astratti quindi corsi studenti biciclette non cose oggetti materiale nomi concreti che specificino davvero che cos'è quella risorsa di che cosa stiamo parlando e queste risorse in base al metodo HTTP con cui vengono chiamate producono un effetto diverso e hanno un'azione diversa quindi se noi e di più ancora se queste azioni HTTP vengono applicate a una collezione o una risorsa singola hanno risultati diversi alcune azioni non si possono applicare alle collezioni alcune azioni è meglio non applicarle alle collezioni per esempio allora di questi quattro metodi il GET serve per ottenere la rappresentazione della risorsa nel caso della collezione vi restituirà l'elenco l'insieme di tutte le risorse nel caso del GET su una singola risorsa su un singolo elemento vi restituirà le proprietà di quell'elemento come probabilmente potete immaginare la POST si applica solo alle collezioni non è sbagliato applicarla alla risorsa singola e serve per creare una nuova risorsa quindi il POST sulla collezione students crea la rappresentazione di un nuovo studente la PUT è tipicamente usata per aggiornare una risorsa esistente e di conseguenza è tipicamente utilizzata per aggiornare una singola elemento di una collezione non per aggiornare tutto insieme una collezione e ci sono varie implementazioni in questo caso ci sono alcune implementazioni che suggeriscono che un aggiornamento deve essere un aggiornamento intero dell'elemento della risorsa per cui aggiorno tutti i dati dello studente che ha matricola 1, 2, 3, 4 anche se i dati dello studente nome, cognome data di nascita non cambiano io voglio aggiornare il numero della carta di credito e allora aggiorno comunque tutto lo studente anche solo se devo aggiornare un campo che è l'interpretazione più coerente dato che questi verbi si dovrebbero applicare o alla collezione intera o alla risorsa nel suo intero qualche implementazione si prende un po' più di libertà e permette l'aggiornamento parziale di una singola risorsa quindi io voglio aggiornare il numero di codice della carta identità di un singolo studente allora invece di passare un XML con tutti i dati dello studente che per il 99% sono identici mando solo l'XML con per esempio un campo il campo che voglio aggiornare alcune API reali implementate per questa seconda opzione utilizzano un altro verbo HTTP non put quindi non uno di questi quattro quale verbo HTTP potrebbero usare? update oppure c'è uno che inizia con la P che non è tanto usato ma esiste pool no pool non credo che sia HTTP e git uso nel metodo patch faccio una patch alla risorsa però di nuovo il metodo più coerente è quello di usare una put e aggiornare l'intera risorsa l'ultima azione che permette di fare è la delete che come immaginerete cosa fa la delete cancella che cosa cancella? o un singolo elemento o una collezione allora facciamo questi due esempi giusto per riassumere quello che vi ho appena detto abbiamo una risorsa che è una collezione che sono tutti i cani di una certa clinica veterinaria per esempio tutti i cani di un certo canino e poi abbiamo una risorsa che è invece uno specifico cane il cane numero 1234 allora la get sull'intera collezione che cosa fa? restituisce l'elenco dei cani tipicamente solo l'elenco quindi alcune informazioni essenziali non tutte le proprietà su tutti i cani che sono lì quindi per esempio restituirà che c'è un cane con matricola 1234 e c'è un cane identificato da 567 sulla risorsa singola invece mostra tutte le informazioni su quel singolo cane quindi il nome l'id quanti anni ha la razza se ha avuto malattie eccetera eccetera tutte le informazioni che sono utili e funzionali a quel server che deve esporre questa informazione perché ricordate sempre che sotto c'è un server web http che vuole esporre queste informazioni in una maniera pseudo standard a qualcuno ma per uno scopo preciso la post sull'intera risorsa come vi dicevo prima crea una nuova istanza un nuovo cane c'è un nuovo cane che è arrivato al canile quindi bisogna memorizzarlo nel sistema e quindi si fa una post sulla collezione passando cosa passando tutte le informazioni relative al nuovo cane una post sul singolo su un cane già esistente dà un errore perché non è possibile creare niente all'interno della singola risorsa una put su un'intera collezione di cani seppur possibili è da tipicamente evitare perché la put vorrebbe una lista con tutte le proprietà di tutti i cani non solo quelle da aggiornare ma anche quelle già esistenti perché lei come vi dicevo prima dovrebbe ragionare sull'intera collezione quindi io voglio aggiornare un'intera collezione non voglio fare un bulk update di tutto questo è concesso dallo stile architetturale in pratica è sconsigliato e molto spesso è evitato in questo bulk update se voglio aggiornare le informazioni su alcuni in questo caso cani semplicemente farò una put ai 3 4 5 cani che mi interessano quindi una put su dogs slash 1 2 3 4 dog slash 5 6 7 ma se ci sono troppi valori cioè bisogna comunque farli singolarmente sarebbe consigliato farlo singolarmente anche perché ricordate che l'aggiornamento sarebbe l'aggiornamento di un'intera risorsa quindi non voglio aggiornare l'anno dei singoli sì magari voglio aggiornare l'anno dei singoli cani perché è un anno in più è passato un anno e quindi devo aggiornarli tutti ipotizzando non avere un sistema più furbo per farlo ma dovrei comunque passare l'intero set di tutte le informazioni relative a quel cane anche solo per aggiornare un numero e in maniera simile si può fare una delete sulla collezione per cancellare tutti gli oggetti memorizzati ma anche questa tipicamente è sconsigliata ed è un ottimo modo per avere errori perché uno rischia per un errore perché magari il suo software non è inserito correttamente l'id di cancellare tutto in un unico colpo quindi questo è possibile ma è tipicamente anche lei molto sconsigliato questo bulk delete invece su una singola risorsa è possibile cancellare la singola risorsa perché per esempio quel cane in un canile è stato adottato e quindi non interessa più e così via quindi questi quattro metodi get, post, put, and delete per riassumere possono essere potenzialmente sempre applicati sulla collezione ma il put e il delete hanno un grosso asterisco di warning sul state attenti se voi lo fate o state attenti a che cosa state facendo perché sono operazioni potenzialmente distruttive per una grossa collezione di di dati gli altri i quattro metodi invece si possono applicare ad eccezione del post che proprio non è possibile applicare non è solo sconsigliato proprio è un errore applicarlo alle singole risorse il get per prendere la singola informazione su un cane il put per aggiornare le informazioni del cane e il delete per cancellare le informazioni di quel cane da quel server ovviamente o meglio chi ha pensato rest ha anche pensato alla possibilità di avere relazioni tra risorse diverse nel primo abbiamo visto per esempio la risorsa studenti e la risorsa corsi ovviamente i corsi e gli studenti di università hanno una qualche relazione gli studenti seguiranno un corso e un corso sarà seguito dagli studenti per esempio e quindi è possibile sempre esemplificando su HTTP con le URL esprimere delle relazioni 1 a n o 1 a 1 tra diversi elementi e sono rappresentati con collezione identificativo slash la nuova collezione con cui è fatto un rapporto quindi per esempio noi potremmo avere sempre nel nostro ipotetico server api.oniupo.it una collezione studenti tutti gli studenti dell'università l'individuo lo studente con matricola 1,2,3,4,5 e i corsi seguiti da quello studente quindi un'altra collezione subito dopo oppure noi potremmo avere di nuovo la collezione corsi con l'identificativo del singolo corso e slash students quindi tutti gli studenti che sono iscritti a quel corso con le loro informazioni quindi possiamo avere anche queste relazioni all'interno di REST applicando gli stessi principi gli stessi quattro metodi di prima quando c'è una collezione questa in fondo è una collezione quindi il get di quella collezione darà tutti gli studenti ma non stavolta tutti gli studenti dell'università ma tutti gli studenti filtrati per quello specifico corso queste relazioni possono estendersi potenzialmente all'infinito uno potrebbe avere collezione identificativo collezione identificativo collezione identificativo e andare avanti così per quattro giorni quello che tipicamente come best practice si fa è non andare troppo oltre questo livello qui quindi avere una barra due relazioni non di più proprio per evitare di complicare troppo la faccenda ma è una cosa che si fa in pratica e e queste sono solo url e i metodi dopodiché come vi dicevo queste url e questi metodi restituiscono o hanno bisogno di informazioni in una determinata rappresentazione e da questo punto di vista lo stile architetturale anche se costruito su HTTP è totalmente libero e agnostico e dice quello che volete può essere utilizzato come rappresentazione tipicamente in pratica vengono utilizzati XML e JSON sono i due formati che fanno da principe in questo in questo contesto dopodiché in alcuni casi è necessario per esempio ricevere un'immagine e quindi ci sarà un'immagine oppure ci sarà un SVG o ci sarà un plain text dipende ci possono essere casi particolari tipicamente è un XML o un JSON molto più tipicamente è un JSON quasi sempre meno frequentemente vengono restituiti XML ma questi due sono quasi sempre forniti o in alternativa o in congiunzione ci sono API che restituiscono unicamente un JSON e voi nel vostro progetto progettando un API REST sceglierete liberamente che cosa non è necessario ovviamente fornirne entrambi per esempio sarà sufficiente fornire il JSON ma molte API forniscono entrambi e bisogna comunicare nel momento in cui si fa la chiamata HTTP quale se ce n'è più di uno formato si vuole come utilizzando tutti i metodi che possono essere utilizzati in HTTP tipicamente settando in maniera appropriata l'header della richiesta quindi accept application JSON content type application JSON eccetera se volete un JSON altre volte ma queste sono un po' meno frequenti si mette o l'estensione del file che si vuole in fondo all'URL quindi .json se voglio un JSON .xml se voglio un XML questo esiste esiste poco non è tanto bello perché rompe un po' lo stile REST di impostazione delle URL oppure ancora con dei parametri quindi punto di domanda format punto di domanda extension punto di domanda quello che volete uguale JSON XML TXT eccetera questi sono i tre metodi tipicamente si preferisce e viene più spesso utilizzato il request header quindi o con accept o con content type e giusto per fare degli esempi GitHub ha del REST API fatemi trovare un esempio repository quindi per esempio se volete in GitHub dopo aver fatto eventuale login e esservi autenticati se volete recuperare i repository di uno specifico utente c'è un API che è get perché voglio recuperare la lista dei repository users che è la collezione di utenti username che è lo username dello specifico utente slash repos che è la lista di tutti i suoi repository quindi esprimendo quella relazione una relazione già nell'url questa API per esempio ha ulteriori parametri e ha una risposta in questo caso c'è anche qualche dettaglio all'interno del repository e notate anche che essendo basato su HTTP oltre alla risposta c'è anche uno stato 200K quindi REST essendo basato su HTTP può sfrutta sfrutta deve sfruttare anche le risposte appropiate quindi se viene fatta una chiamata a una risorsa inesistente può restituire 404 perché la risorsa non esiste e così via in questo caso la risposta è valida quindi da un 200K e poi fornisce un JSON di risposta in questo caso GitHub restituisce un JSON un altro esempio Twitter ha anche lei dell'API REST adesso senza andarle a vedere tutte nel sito ma c'è un link se siete curiosi potete vederle Google Calendar ha dell'API REST per esempio questa possiamo dargli un'occhiata per esempio se io voglio le informazioni sul mio specifico calendario posso dire get users slash me perché sono solo il mio calendario in questo caso non usa usa questa parola privata diciamo per identificare l'utente correttamente logato quindi me calendar list oppure calendars in questo caso calendar list hanno scelto per indicare una collezione di calendari slash l'id del calendario specifico che io voglio recuperare del mio calendario specifico che voglio recuperare ed è una get perché appunto mi serve per recuperare le informazioni di un specifico calendario e queste sono le risorse hanno calendar list perché hanno poi un'altra risorsa che si chiama calendars e quindi li utilizzano due nomi molto simili per fare due cose diverse le le Philips che è quello che probabilmente inizieremo a fare nell'ora dopo hanno delle API rest quindi per esempio se voi volete avere la lista delle vostre luci ci sarà un'orl che è un indirizzi la lista delle vostre luci cosa ci sarà mai quella potrebbe essere la collezione che rappresenta le luci lights se volete la lampada con i d numero 1 sarà lights slash 1 e così via come vi dicevo essendo basato su HTTP può sfruttare tutti i codici d'errore HTTP e in aggiunta volendo può restituire un messaggio d'errore se il verbo HTTP prevede una risposta con un body e molte API quelle della Philips 1 che è quelle che sperimenteremo oggi altre prevedono un livello di autenticazione che per esempio per Google è OAuth 2 che viene rappresentato da una certa procedura più un codice univoco per la vostra applicazione che accede a quell'API Amazon ha un altro tipo di autenticazione pseudo proprietaria Twitter ha utilizza OAuth 1 non OAuth 2 che di nuovo richiede una certa procedura e anche lei ha un codice una consumer key che viene generata da Twitter e voi dovete utilizzare nel vostro profilo nella vostra applicazione per accedere a quell'API altrimenti non avete accesso a quell'API ok qui in fondo ci sono un riassunto delle cose che abbiamo detto quindi i nomi plurali per le collezioni sono da preferire le entità sono da indicare tramite id i metodi principali post get put in delete eccetera ecco potete utilizzare i codici d'errori 200 201 404 500 e così via tipicamente nella URL delle API REST viene anche indicato la versione dell'API allora se è un server dedicato tipo api.unupo.it sarà api.unupo.it slash v1 slash studenti per indicare tutti gli studenti secondo la versione 1 di quell'API se non è un server dedicato facciamo un esempio github.com tipicamente la URL è costruita come github.com slash api slash versione 1 o versione 2 o versione 5 quello che è slash studenti questo viene fatto soprattutto da chi le mette in produzione per mantenere un po' per un po' di tempo almeno retrocompatibilità con le versioni precedenti quindi uno può iniziare a utilizzare l'API versione 2 ma se vuole avere ancora accesso all'API versione 1 e solo attraverso un cambio di magari un cambio di procedura magari un cambio di JSON che viene restituito ma per quanto riguarda l'URL è giusto un cambio di un numero nell'URL come vi dicevo queste slide finiscono con JSON però voi siete esperti di JSON giusto? qualcuno dice no l'altra volta qualcuno diceva sì vabbè due parole su JSON ma veloce tanto sono è molto semplice che cos'è JSON? è un protocollo è un formato è un linguaggio di markup sì va bene possiamo dire è un linguaggio di markup JSON sta per JavaScript Object Notation che rende subito chiaro da dove è nato JSON dal mondo JavaScript e è un formato di scambio dati estremamente leggero nell'idea di chi l'ha creato ed è un sottoinsieme di JavaScript fa parte della specifica di JavaScript è un sottoinsieme di JavaScript quindi usa molti concetti molti simboli dal mondo JavaScript è molto molto più libero di XML in XML avete gli schema JSON ha una cosa che si chiama JSON schema ma non ha è un'aggiunta che è stata fatta dopo in maniera non standard rispetto al JSON normale JSON semplice puro non ha alcuno schema può al suo interno avere quello che volete liberamente non è previsto uno schema di alcun tipo e il JSON praticamente ha due tipi di struttura a suo interno che possono essere unite le liste e le singoli oggetti i singoli oggetti sono tra parentesi graffe e sono coppie nome valore le liste sono parentesi sono oggetti contenuti in parentesi quadre e come un array eccetera e all'interno contengono tipicamente delle collezioni di quegli oggetti sopra per esempio potremmo avere una collezione un oggetto che ha la chiave first name notate che è scritto come fosse scritto in javascript quindi in camel case first name con la n maiuscola quindi aperte virgolette chiave chiusa virgolette due punti aperte virgolette john chiuse virgolette john è una stringa diciamo virgola chiude quel singolo quella coppia la seconda coppia è last name smith scritto nello stesso modo e questa è una collezione semplice dopodiché ci possono essere collezioni più complesse per esempio una collezione che si chiama address che al suo interno non ha un singolo valore una stringa ma al suo interno un'altra collezione quindi nuove parentesi graffe e all'interno di quella collezione c'è di nuovo delle coppie chiave valore address street address città stato e per esempio codice postale notate che postal code non ha le virgolette perché non è una stringa è un numero e quindi i numeri possono essere rappresentati in questo modo subito dopo la conclusione di quest'ultimo coppia chiave valore c'è un'altra parentesi graffa e c'è la virgola che chiude l'intero oggetto address dopodiché in questo oggettone che rappresenta il signor john smith c'è anche un altro oggetto che si chiama phone numbers che al suo interno non ha una collezione come prima ma ha una lista ha un array ha un array di string e notate che queste array di string sono semplicemente string separate da virgola non ha non ci sono coppie chiave valore ci sono direttamente le cose nella lista come data structure json si può costruire utilizzando solo questi percorsi quindi un oggetto parte con delle parentesi graffe si chiude con le parentesi graffe e dentro può avere una stringa due punti un valore notate che la chiave è sempre una stringa quindi aperte virgolette la chiave chiude virgolette e poi una virgola e altre stringhe fino alla fine un array si apre con la parentesi quadra può avere un valore solo il valore e chiudersi con la parentesi quadra e separato da virgola le stringhe possono essere ogni calattere unicode a eccezione delle virgolette doppie o del backslash e qui ci sono altri esempi e il valore quindi il valore che si usa lì dentro l'array o il valore che si usa dentro l'oggetto può essere a sua volta una stringa come abbiamo visto un numero come nel caso del codice postale un altro oggetto come abbiamo visto prima un'altra lista oppure i valori vero falso e null che non sono da mettere tra virgolette e i numeri a loro volta si possono comporre con quest'altro grafico e quindi per esempio possono avere un segno meno davanti se si vuole possono avere uno zero punto eccetera 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 quindi questi quattro grafici rappresentano tutto quello che è possibile costruire in JSON in maniera corretta però essenzialmente capiterà spesso di vedere JSON che assomigliano a questo o JSON che hanno dentro una lista degli altri oggetti quindi per esempio questo potrebbe essere una lista indirizzi e dentro avere tante volte questo oggetto qui quindi tante volte un oggetto che a sua volta contiene street address city state e in code come dicevo è un formato di scrittura è testuale è un sottinsieme di javascript non ha uno schema predefinito esiste un'estensione che si chiama JSON schema ma non è diciamo standard ed è molto più leggero di XML e come XML ci sono vari modi di parsificarlo trasformarlo in oggetti java per esempio in maniera automatica senza dover a mano parsificare questa struttura e va bene poi nelle slide ci sono un po' di link a ebooks altre slide all'attesi di dottorato di quel signore di prima se uno non sa proprio cosa fare e vabbè alla pagina wikipedia del resto e la stessa cosa il sito ufficiale di JSON che è json.org e lo standard JSON vero e proprio che è un sottinsieme di javascript infatti è uno standard ECMA esattamente come javascript domande bene se non avete domande facciamo dieci minuti di pausa e poi riprendiamo con le Philips Hue e mi serve un volontario in prima fila per le Philips Hue per fare una cosa difficilissima tu bravo dieci minuti di pausa grazie